In provincia di Varese c'è una villa del Ciccocento che non puoi perderti. Donata al Fai nel 1989 e poi aperta al pubblico. Questa villa ha vissuto diverse vite e visitandola potrai scoprirle tutte. Dagli antichi rustici alle zone più nobili, un tuffo nel passato per poi passeggiare nel suo bellissimo pacco, che ti mostro però in un altro video. Non perderti l'articolo sul blog dove ti racconto della mia visita. L'incendio!